Quest'anno la Notte dei Ricercatori si tiene in maniera virtuale, è un formato inedito che però ci consente di raggiungere tutti e di mostrare qual è il contributo che la ricerca italiana dà a tutti i cittadini. Un saluto particolare a tutti i ricercatori che con il loro impegno, la loro passione, il loro coraggio stanno dando un contributo bellissimo al nostro futuro.